Era il 21 dicembre 2023 quando è stata data la notizia del commissariamento del centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli a Milano in seguito all'inchiesta della procura che come un vaso di Pandora ha messo in luce le condizioni disumane in cui erano costritti a vivere i soggetti rinchiusi. Oggi a distanza di nove mesi, nei giorni in cui scade il termine per il deposito della relazione del commissario designato dalla procura per sovrintendere al CPR dopo il sequestro del gestore, la rete mai più lager ai CPR ha voluto pubblicare la propria controrelazione, una raccolta di 144 pagine composta da circa un centinaio tra video, immagini e testimonianze raccolte nei mesi di commissariamento. Ciò che emerge secondo gli attivisti è che nulla è cambiato rispetto alla vecchia gestione, anzi la struttura è rimasta fatiscente, sporca, infestata di insetti e letteralmente invivibile con le temperature interne infernali raggiunte d'estate e i continui svenimenti. Mesi in cui la rete mai più lager ha denunciato più volte episodi di autolesionismo grave, pestaggi da parte delle forze dell'ordine a danno di ragazzini in vere e proprie spedizioni punitive notturne. Deportazioni eseguite con la violenza e contenzioni illegittime, situazioni di grave disagio e malattie psicofisiche incompatibili col trattenimento, agenti armati nei moduli abitativi, sedativi a profusione, ostruzionismo nei confronti della società civile che chiede di accedere all'interno, secondo gli attivisti un contesto di vera e propria tortura. Una situazione dunque che continua a preoccupare anche in vista dell'avvicendarsi alla gestione del CPR di Milano del nuovo gestore aggiudicatario, la Echene Cooperativa Sociale, che da quanto riportato è già alla guida dei CPR di Macomer e di Gradisca di Sonzo, dove in due anni sono morte quattro persone. Grazie.